Ups a tutti i cari upsini upsine come state come 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 state spero bene dai Io ci sono qui solo per voi per fare un video dove ti voglio guidare appunto nell'attormentarti ma voglio che questo sia anche un video interattivo Infatti ti voglio fare diverse cosette ma la particolarità di questo video è che vorrei che per tutto il video tenessi gli occhi chiusi Sì perché ho preparato delle cose che secondo me è perfetto se fai ad occhi chiusi Eh già quindi indossa subito un paio di cuffie auricolari stenditi sul tuo letto stasera più che mai e chiudi gli occhi Ok io inizio con qualcosa di veramente veramente semplice e banale ovvero ho in mano la pallina orbitz E ti voglio chiedere di dire da quale lato la schiaccio Iniziamo Quale lato? Perfetto Perfetto Un'ultima volta Stupendo E comunque io adoro questo suono Ma questo esercizio lo abbiamo fatto Passiamo a qualcos'altro Allora ho preparato qua per te un altro esercizio di questo genere Ovvero su quale lato si sente cosa Ma questa volta con l'ampolla che ormai è diventata una mia pissa Perciò dimmi su che lato senti l'ampolla Ok 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 Quale lato? E ora? Ok 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 Perfetto 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 Dai che secondo me hai delle buone orecchie Adesso prendo anche l'altra Adesso prendo anche l'altra E le usiamo un po' Io le adoro Io le adoro Ok dai Le posso Come Prossimo trigger Vorrei che ti concentrassi sui miei mouth sounds Un po' Giusto un minutino Concentrati Perfetto Perfetto Cosa Perfetto Qui Anicrassi Perfetto Tocca C'è il mio lavoro, ma non è molto difficile, non è molto difficile, ma non è molto difficile, ma non è molto difficile. Ok basta, è giusto un bucchiere, devo riprendere il viato, ma andiamo avanti, tu mi raccomando sempre occhi chiusi. Adesso voglio fare qualcosa di un attimino un po' più diverso, allora vorrei che tessi le tue mani. Sì, anche decidi tu se una alla volta oppure insieme. Io le prendo e farò con il pennello un massaggio alle tue mani, ok? Quindi dammeli pure, appoggiale. Facciamo prima con il palmo verso il basso e poi con il palmo verso l'alto. Immagina che questo pennello stia passando sulle tue mani. girali con il palmo verso l'alto. Allora, lo posiamo. Secondo me era una cosa carina da poter fare. Adesso facciamo il cosiddetto indovina il trigger che secondo me può essere molto carino da fare. Allora ho preparato tre trigger che farò per un minutinino, dai. E vorrei che tu provassi a indovinare. Va bene? Occhi chiusi ora più che mai. Comincio con il primo. L'alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il secondo trigger che secondo me è più difficile da indovinare ma è un trigger che ho portato sul canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno molto semplice che secondo me puoi benissimo indovinare. Grazie a tutti. Che cos'era? Ok. E ho per l'occasione questo spruzzo d'acqua. Questo spruzzo d'acqua. Perciò da chi l'altro senti lo spruzzo? Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. Sono molto soddisfatto. E per concludere. E per concludere ho comprato da poco un nuovo trigger. E voglio che mi dici cosa ne pensi. E voglio che mi dici cosa ne pensi prima tenendo gli occhi chiusi. poi alla fine puoi aprirli. Poi alla fine puoi aprirli e vedere cos'è. Ok? Ok. 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 Allora apri gli occhi. Ok. Ok. l'occasione questo cosino qua che non so definirti. le ho presi da tiger. Pazzeschi. Ma io penso sia giunto il momento di dirti. Cucu. Cucu. Ora tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo. Lascia un like e un bel commento. Poi se però tu vuoi restare ancora con me i tasti li dovresti sapere. Io ti metto il mio video precedente, una mia playlist e qua il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video e tutti i shorts che ho fatto. Quindi ce ne sono dei contenuti sul mio canale. Io ora però ti mando un grande bacio e buonanotte, 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 buonanotte.